Vedi di giocare bene, che non è serata Tu vedi giocare bene? Questa cosa non va bene Cosa? Dark Souls 2 non va bene, me la segno quella che mi ha combinato stasera Non finisce qui Che ho detto? Allora, oggi non prendo l'orco perché mi si è sul cazzo Ma comunque Star Wars l'ho dato un amico Cosa? Star Wars l'ho già dato un amico Perché non è male? No, non mi andava, se lo su, che se quattro Comunque è il gioco del cazzo alla fine, non è niente di imperdibile Puoi partire dall'inizio o dall'azuglio? Dall'inizio Se non parti dall'inizio tanto non puoi fare il... Il gioco intero Allora Cioè praticamente per tutti quei passaggi che ti avevo detto l'altra volta Sì, papà Riccardo Grazie Stavo attivando la trappola, non so perché ti sei andato... Va bene Ho perso due cuori, va bene Eh sì, sì, è pericolosa la trappola Per questo va disinnescata con cura Prenditi la principessa, io provvedo alla cassa C'è la cucciola Oh, il guantone Ho sbagliato E tu il saboteur Ci penso io Tento Ti puoi fare male così Bisogna calcolare... Sì, bisogna calcolare anche le ipotesi più improbabili No Non puoi scendere in quel modo con la cosa in mano Con la cosa in mano Sì, guarda Puoi fare... Aspetta, no Qua non c'è un posto dove lo posso far vedere Puoi fare al massimo così Eh Che pro, che pro ragazzi Se ti togli cerco di prendere quel serpente Niente Vabbè Sì, guarda Non sei bravo come Perché c'ho il guanto Quindi posso lanciare le cose a distanza infinita Tipo, guarda Perché c'è il guanto, scusami? L'ho trovato nella cassa prima Allora, la principessa è entrata o no? Sì, è entrata Volevo solo dare un'occhiata qui Non c'è niente Ok, possiamo andare Boss, praticamente Se sei ancora in ascolto Il... Questo gioco lo stiamo giocando con Remote Play Together Praticamente L'unica cosa che lui deve aver installato Sul computer è Steam È una buona connessione Perché per il resto del gioco lo faccio girare io Ah, devi sapere che Anche se di solito escono cose buone dai bauli A volte escono delle bombe Oh Non di quelle che raccogli Comunque c'è il principe da salvare Hai visto comunque il Mimic su Dark Souls? Sì Che l'ho sgamato Cosa c'è? L'ho disattivata io quella Ah, ok Vuoi che ti compro qualcosa? No, papà, grazie Allora, vediamo cosa c'è sotto Ok No, dovevi... Non vedo, Riccardo Non dovevi mollarti L'ho fatto a pozzo Ok, scusami No, no Lo dico per te Per la tua sopravvivenza Ok, dai Io andrei di giù Disinesca quella trappola lì Che c'è il principe Ok Non c'è niente di qua Di troppo utile Va bene Che cazzo è questo casino? Quale casino? Tu non hai rumore di Discord? No Qua giù cosa c'è? Un vaso e una cassa Bene No, i rumori di Discord Penso che me li toglie Nel momento in cui sto streamando Scaltro Sono in ascolto, ok Dico, quindi se tu hai un PC Dove puoi installare Steam E una connessione buona Attento a quella trappola su Basta che non salti troppo in alto E non è un problema Puoi anche aspettarmi Vado a prendere tutto io Anzi no C'è pure una No, no, non ne vale la pena Ok Meglio di qua secondo me Più sicuro Occhio con quell'oggetto in mano Fai come faccio io Perché se tu ti metti così No, volevo aggrapparmi Ho fatto così Lo butti Non lo devi fare Allora perché guarda Posso aggrapparmi qui Sì, perché non devi fare così Perché se no lo butti Attento con quella freccia Ma ammazzi Ti ho detto di non farlo Cazzo Come faccio io Te l'ho fatto vedere prima Come faccio io Togliti, togliti Se no tira la freccia Basta fare così Vabbè È molto più facile non farlo Però tu pensa che Io mi ero pure scordato Che potevi fare quella cosa lì Ok Oh, bravo Bene Vado a Se no portami il baule Fai tu Ok, questo è un mezzo problema Io volevo andare Lo esplorare meglio di là Bene Ammazzare i nemici non serve a niente Se non ti danno niente Attenzione che lo scorpione Non è facile come nemico È un po' stronzo Oh Due minuti e mezzo Forse arriva La connessione c'è Steam Che manca Vabbè Steam Lo puoi pure Mettere su Su Linux Eventualmente Per dire Comunque La coop Praticamente Sarebbe solo locale Però il remote play together Grazie Ok, non c'è niente di utile Da quel lato Andiamo avanti Con remote play together Uh, aspetta Mi ispira quella situazione Mettiti al riparo Ah no C'è la ragnatela È stronzo Ah Stronzo però geniale È andato tutto a meraviglia Che coiore Porca puttana Ok Che dice a me Oh, ho cercato di lanciargli la bomba contro Però Non me l'aspettavo Che cosa è quell'oggetto che ho preso da te? Tutti i miei oggetti No, quello che ho preso No, la cassa Vabbè Grande Riccardo Sì, è tutta colpa mia Certo È vero Allora, io ho fatto una cosa complicata Va bene, comunque Altra run Nuovi problemi Stessa run Altro giorno Aspetta, aspetta Ok C'è la principessa? Sì È qua giù Penso Ho sentito a godere Allora era sopra, forse No, mi sa che non la troviamo Allora Paccato Fine? Piano di merda Non abbiamo concluso molto Qualcuno si è iscritto Grazie C'è il carlino Io voglio sacrificare il carlino Aspetta, che sta qua sopra? Niente Quante bombe abbiamo? Abbastanza Attento Sto facendo una cosa Ok Che c'è la messa di merda, cazzo Non proprio Due bombe per un carlino No, perché lo voglio andare a sacrificare Come non detto Vabbè Vabbè Non è andata come speravo Cioè, è morto? Sì, l'ho sacrificato morto Non è proprio il massimo Madonna, Riccardo Madonna Eh sì Sei proprio un proto A questo gioco Lo so Attento alla trappa A proposito Così difficile essere più pro E ora? E ora andiamo di qua Si possono spingere? Noni Questi sì Abbiamo ucciso un topolino Mi sa Quindi? Niente Ok Va bene, sì A sto punto Aia Cazzo, ci siamo persi la chiave No, è lì Tu c'hai due bombe Però devi usare la corda No, lanciale da sopra le bombe Esatto Perfetto Prego, a te l'onore Puoi prenderti L'oggetto Ok Che cosa è l'oggetto che fa? È quello che serve per quella procedura Per arrivare all'inferno Questo qua ti permette di trovare Il black market Nella giungla E nel black market trovi L'ank In vendita Grazie Qualcuno la clippi Vi prego Clippatela Mi sconjuro Clippatela Perca puttana Fuggi, fuggi, fuggi Non sa votarmi, Riccardo No? Sicuro? Perché qualcosa mi dice che te lo meriteresti È stato bellissimo È stato bellissimo No, non lo è stato È stato bellissimo Beh, comunque Bel tuffo No, vi prego Quando ho clippato quella cazzo di cosa È stato bellissimo Immagino che nessuno sappia come si fa No, Riccardo Registrata dal VOD Sì, poi la metterò su YouTube Sicuramente È stato troppo bello, Riccardo Mi sono Ok, no C'è l'uscita Perfetto Senza corda Hai fatto Così Guarda, è molto preciso come gioco Attenzione Tu sei molto preciso? Sì, anche Occhio, eh Perché se tu cadi dall'alto Lo schizzo di sangue che fai È sufficiente A far scoppiare quella dinamite Maronna, rogarmone Ok Non so se vogliamo prendere quel baule là Lo prendiamo Ma Riccardo sta laggando, eh A me si vede normale Mi sarà troppo nessuno Beh, io non sono online Comunque, non sto giocando online, ovviamente Ma sta laggando tanto Non riesce a giocare? No, no, nintanto Non lo so Ok, lì c'è l'uscita Dopo di te Non è possibile Hai Hai attivato Questo è spelanchi, comunque Guarda, sono cose normalissime In questo gioco È il motivo per cui è così figo Clippala, ti prego Anche questa Di fare Le spelanchi moments Non ci credo, cazzo Tu con la freccia rotta Te l'ho detto Non fa un cazzo i nemici Non l'ha manco sfiorato Però attiva i meccanismi Lì c'è il ragno, eh Anche lo scheletro Ma lo scheletro scende Ho amato Eh, pronta a salvare i culi Ora attacco il negoziante Non credo che sia il momento C'è il tempo e il luogo per ogni cosa Musica della bicicletta intensifies Ho, ho Allora Io prenderei il tesoro Francamente Comincia a salire E io lo prendo E ti raggiungo Non dovrebbe inalberare il negoziante Visto che sta sopra la pietra Sennò ti comincia a dare del terrorista Oh, la principessa sta lì Però non so se vale la pena usare le bombe Con l'idolo Sì Questo vale un po' di soldi Ok Occhio al ragno Ma qua c'è la pietra La vuoi vedere la scimmia dorata? Ok Aspetta Riccardo Non vedo Aspetta Non vedo Ho dovuto fare un salto un po' strano Perdonami Però sacrifici È una scimmia dorata Che caga pepite E ora che fa? Caga soldi Ma che ce ne facciamo? Per i soldi? Ma se resta per sempre con noi? No Oddio No, però è bello che tu la puoi portare Ok, c'è un problema Quanto resta con noi? Perfetto Il fantasma arriva da qua Immagino che al prossimo piano la perdiamo Quindi cerchiamo di farle cagare più roba possibile Prima che arriva il fantasma È bella sta cosa che tu lo puoi tenere però E io posso raccogliere Minchia è un diamante Basta? Basta, basta Peccato Vedi, non la porta No No, era per fartela vedere Penso che non convenga rispetto a portarsi l'idolo Allora c'è un po' Come cazzo prendiamo? Non lo so Aspetta un secondo che devo un'occhiata anche dall'altra parte Che lì c'è un vault Attento E non ci sono andato apposta Quelli non li puoi spingere perché sono due Guarda, sta da bando Riccardo Aspetta, vediamo se in due possiamo spingerli Non penso Sto da bando? Ok, no Sì Guarda Quello ragno non crea problemi Pensa a scendere Penso a morire È importante tener conto Sì sì, quello è tuo Attento allo scheletro Togliti Ah, non scende Perfetto Ma cazzo urli, coglione Dicevo Che dicevo? Attento qualcosa Aspetta Ok Merda Siamo nel Siamo in trappola Tu sei in trappola No, siamo in trappola Tu sei in trappola Da che lato si esce? Scusami Appunto Attenzione Concentrazione Penso di Di là secondo me Spero Sennò può essere un problema questa cosa Sì, ok Questa era la strada che dovevamo fare Vabbè vai a mollare il principe No, c'è il serpente giù Non c'è nessun Molla il principe Vabbè Aspetta un secondo Non ti faccio despawnare Torno subito Intanto abbiamo ancora Due secondi Se spavano da l'almirato Mi ammazzo Tranquillo Oh Cristo Tutto sotto controllo Sì, sì, sì Ma la chat che sto scrivendo? No, solo Rofl Vabbè Non ti preoccupare Scusa Non ti volevo colpire Porterò il tuo cadavere Al sicuro Non ti preoccupare Me ne prenderò cura Madonna che situazione di merda Però Karma Karma Sì, vabbè Non è che Tu hai fatto tutto sto gran lavoro A continuare a prendere danno Quindi Non mi dare tutti È super efficace Sì Il fatto Che io ti abbia dato il colpo di grazia Non vuol dire Che sia tutta colpa mia Mi tolto due cuori Allora Eri in mezzo al cazzo No, ero dietro di tetto sbagliato No, io ho colpito giusto Però Sei stato coinvolto nella cosa Riccardo Non ci credo Non ci credo Guarda Che c'è Sì Io odio Riccardo Pagliaro E lo movimento Cerchiamo la principessa No Non va bene questa cosa Io riavvierei la partita Però la principessa Perché sta andando troppo male Ma come no Io direi di sì Però No Come no Abbiamo già perso un sacco di vita No Dicevi che ti piacciono i livelli al buio tu, no? Sì Se vuoi la torcia la tengo io No Ok Bene Allora fai strada Ma se premo Quadrato La lancio È un oggetto normale Sì, la lanci Ho lo solito di attaccare È comunque un gioco Veramente Crudele Però potevi evitare Di correre contro il ragno Pensavo di incendiarlo Togliti No Non può Ti conviene fare giù Pienemi giù E lanci Così Sicuro di non volerla riavviare Questo Che padre Non proteggeremo mai Eh io l'ho finito Però Appunto Da solo E ci ho messo pure un bel po' Sì, sì Divertiti Sono il fantasma di backflip Ho una voglia di buttarmi Guarda Sulle spine Sono il fantasma di backflip Ok, ha funzionato in qualche modo Non sei per niente di aiuto Lo sai Ti stai segnando a fare backflip Stai distraendo pesantemente Ok Non ho preso danno Credo E mi Mi Dai un soffio a quel pipistrello Che c'è sotto di me Verso destra Ok Grazie Prego Ora Al prossimo piano Ti cerco E ti salvo Questa è la La migliore Che mi sia mai Capitata Non credo Comunque Dovrebbe esserci Una bara Dovrebbero mettere Una minimap In alto a destra Tipo Isaac Eh? Dovrebbero mettere Una minimap In alto a destra Tipo Isaac Ma va Ma che stai dicendo? Esplanchi Questo L'esplorazione È l'importante Qua c'è la bara Il sasso Te lo regalo Allora Io scenderei Porca puttana Hai colato? Sì Mi ha chiamato Cazzo Non l'ho visto Questa è colpa mia Perché? Minchia Non droppiamo Con cazzo Tre nei per uccidere Non droppano La minchia No I nemici In generale Non droppano Cose Speriamo che In quella cassa Ci sia qualcosa Di utile Guardi Oh cazzo Non so come sia successo Però può succedere Corde Vabbè Eh non ce ne ho Un po' pericoloso Aspetta No Perché? Perché? Perché non hai aspettato Quando t'ho detto Aspetta? Oh che fai? Ho finito no? Voglio uccidere lo Scorpions Ma perché? Non serve a niente Ma quando raggiungiamo Quel tempo e quei soldi Che succede? Quale tempo e quali soldi? Quelli che si vedono a fine livello Non ho presente Un po' di riuscire aia Sì RIP Sì beh Con tutti i cuori Che mi hai fatto perdere prima Guarda Non è che sono sorpreso Te lo spingo giù Ok è morto Cucciolo Ricky Che cucciolo Ti spingo la TNT addosso? No L'hai fatto tu eh Non sono stato io Non sono stato io Come è successo? Perché ha tracciato Io che cadevo Ok Giusto Perché comunque Non è morto istantanea Necessariamente Ma la chiave dov'è? È da trovare Vabbè che non lo dobbiamo fare Per forza Cioè Provare a finirlo normale Sarebbe già Ecco la chiave C'hai una bomba Lo puoi fare Primo cerchio No 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 O me lo chiedi E aspetti Oppure Aspetta Guarda Vediamo se c'è Non si può spingere Infatti Oh sì Dai se ci sono le bombe Niente No Dovresti fare come faccio io In basso E premi la B E lui molla le bombe Possiamo riavviare la partita? No Perché non Il coso non si può più prendere adesso Cosa? Il baule Non si può più aprire Eh vabbè dai per niente Ok Non lo possiamo però Finire realmente Per un baule C'è Luigi a bordo qua dentro Dove vado a cercare una bomba Allora Buona fortuna Hai 20 secondi Prima che arriva il fantasma Puoi scommettere Alla ruota della fortuna Ma ti danno Non credo che ti danno Bomba No Vabbè lascia stare Vai avanti A sto punto Wow Dove è il fantasma? Eh sta arrivando da sinistra Sicuramente Ecco Che palle Eh sì Che due coglioni Vero Vedi là Che c'è un Barra E quante Nel totale? Catone Il numero di quelli Che abbiamo preso Nel livello È diviso il numero Del totale Beh o comunque Morirai qua Alla giungla Sarà uno spasso No invece Ma è chiusa Sto strada? Sì Così sembra Capisci perché Le bombe sono preziose Comunque Che cazzo sono? Eh api C'è un piano Non alveare Potrei Patevi liberarmi Come si fa? Eh dovevi Distruggere la bara Ah non lo so più Come ho sempre fatto La rana non ti fa niente No Non ci vada Sei stupido però Non avevo idea Che si potesse Spingere la bara L'ho fatto solo Per spingere Il boss Riccardo E sono nato Scusami Non lo sapevo Ma non nasci Premendo quadrato Sì stavo soffiando Il boss Per facilitarti La vita Non l'hai visto Cosa è Dissastrovidente Cosa c'è la scimmietta Di merda lì? Eh una scimmia Normalissima Tu hai Le corde Quindi lì puoi Prendere il principe Se vuoi Però se Io non vedo Dove è il principe? Il principe è Quassù C'è il carlino Insomma È la stessa cosa Lo sai Visto che recuperata Sarà Dipende Cosa intendi Per recuperare No vabbè C'è ancora la possibilità Di battere Olmec Ma La vedo Molto Molto dura Comunque Io non ho risorse Non ho più bombe Niente Ah questo è il livello Degli zombie Sì ma come ti vedo Sta bandiera di merda? Non so se si può Togliere Sinceramente Non ho idea Guarda giù Come? Tieni premuto giù Ok Vedi? Quegli zombie là Sono forti? No dico Sono gli zombie cinesi Che ti dicevo L'altra volta Non sono quelli là Occidentali E ci sono pure In Super Mario Land Nel livello cinese Infatti Aghia Don't ask Lug Io non ci sarei andato Sinceramente Non stavo la gas C'è il cane Mi serve Già Cosa è questo Idolo Deschiuso? Mi pare che fa apparire Il fantasma Nel momento in cui lo prendi Allora non lo prendo Vuoi prendere il cane? Eh sì Prendilo Io prendo la cassa Te lo prendo io Tieni Attenzione Attenzione alla trappola Ma questo qua sotto di me cos'è qualcosa? No È solo scenario È tutta scena Non devi fare così Sennò appunto Il cane lo Ti cade Sì comunque a quanto pare in acqua si può notare E c'è l'uscita Ce n'hai bombe? No E allora niente fucile a pompa Se vuoi continuare Anzi no Non c'è altro Possiamo continuare Che fa? C'entrò Eh no Andiamo avanti Non c'è altro Non abbiamo bombe Quindi non possiamo prendere il fucile Sì è vero Sono zombie cinesi Tipo nel folklore cinese Lo zombie è quel Mostro lì Che saltella Per qualche motivo Nice Il gun shop Compriamo le bombe intanto Comprene Una per te Una per me Non te lo lascio? In basso Sì Togliti che devo aprirlo Se lo vuoi Se ti vuoi comprare il macete Compratelo Però il freeze ray è buono Basta che non colpisci me Congela i nemici che colpisce Va bene Lo vuoi tu? No era per te Se lo volevi Se no lo uso io Però è pericoloso Ti avverto Sì basta che non mi ammazzi Eh appunto Dobbiamo stare molto attenti Tieni di Cioè Ricordati che ho un'arma potente Avviso quando spari Ok Ora provo a congelare quel tipo Però spostati Cioè La telecamera Mettiti un po' più vicino Che se no non vedo Ok Porca troia Grandrick Eh oh L'hai visto che non funziona? Ma dai che sfiga di me Eh no Quando sei tu è sfiga Ma dai Mi sa che rimbalzo che ho fatto Dio Casper Gli stessi che ho fatto io No Comunque sono il giocatore 1 Per fortuna di nuovo Per fortuna Stavo giocando benissimo No la freccia Ok Sì comunque rispetto ad Isaac È molto meglio da fare in co-op Tu sei molto meglio da fare in co-op Perché Respiri così Riccardo? Perché si Non lo spingere Perché non vuoi spingere raggiù? Perché ha distrutto le pepite? Oh Che avrei preso volentieri Vediamo se le ha distrutte Sì che le ha distrutte Fidati So come funziona questo gioco Ma se ti sto insegnando di giocare Io un paio di volte l'ho finito almeno Tu manco alle ice caves Manco alle ice caves Sono riuscito a farti vedere Torca troia Ok Ok non era così Necessaria Aspetta che rompo il vaso Aspetta che rompo l'altro vaso Va bene possiamo andare Mi sono rotto le palle Mi sono rotto Mi sono rotto i vasi Ecco I Ming Le stagioni cambiano Che odio C'è pure il santuario di Cali qua Ma che cazzo ordo Cosa? La pietra? Sì si incastra nella ragnatela E mo? Aspetta Aspetta Tieni riprenditi la pietra Io mi prendo la chiave Mi prendo la chiave Riccardo Dovresti un po' mantenerla calma Ok? No Mi porta la chiave Sembra che cade Una porta di acciaio È grossa Quindi è rumorosa Non ho fatto apposta Basta Basta Non vedevo Riccardo Ecco il po' Che va avanti Per quale Mi aspettassi Ma per quale motivo Mi hai lanciato il sasso? No Mi è caduta Perché non vedevo Ed ero sulla punta Del precipizio Del precipizio A te piace Prendere danno Però Dai Questa non è una comp Mettiamo la modalità deathmatch Forca troia Aia Va bene Va bene Basta Tieni Gioca tu Tutto tuo Prenditi le mie bombe Porta avanti il mio nome Puoi sacrificarmi a Cali Se ti piace Dove? Su Su? Sì dovresti usare le corde Per risalire Cazzo Non è sette Ciao E non è una coppia È un sabotaggio E non è Questa non è una battaglia È un massacro Basta Riccardo Basta Meravante Cris Allontanati Aspetta Che deathmatch Ma cos'è? Proviamo il deathmatch Sì forte Ti vuoi riunire Non penso Starei facendo altro Che si fa? Ci si ammazza a vicenda E alcuni sono bot Ha vinto Ok Avrei dovuto disattivare i bot Probabilmente Yeah Ci sono anche un sacco di arena Però sì È la prima volta che la provo seriamente Ma che cazzo? Perché hai vinto? Perché non posso fare i flip? Sì Cazzo Cazzo Mi sono confuso Non vincerai Cos'è questa azione? Chissà che cos'è Sì Il bot è scatenato Guarda C'è l'artissimo Cazzo Maledetto stronzo Basta ricordo È al meglio di 4 Ma no Yes Ma quella frusta non si può ammazzare Penso di sì Ma guarda che stronzo Ma guarda che pezzo di merda Ma che cazzo è? Super pro Qualcosa non si può ammazzare Bilanciato No body wins Bilanciatissimo Sì No no Dai Ha molto più senso così che in co-op Giusto? Facciamoci malissimo Non le conosco tanto Non le conosco tanto È la prima volta che lo provo Non le conosco tanto È la prima volta che lo provo Ci sei solo tu? Ci sei solo tu? Ci sei solo tu? Nooo Ma perchè muoio da... DAI! Ma perchè ti... Quando tipo stai troppo fermo sullo stesso punto muori a quanto pare No, meglio io ero in corsa contro quello stronzo super pro Sì, ma io ti ho lanciato la bomba lì, ok Come sono morto io? Non ho visto proprio... Ah, ti ha telefragato forse Come ti ha telefragato? Vuol dire... Che si è teletrasportato nella tua posizione E quindi ti ha fatto disintegrare Ho vinto! Yes! Anche lui lo dice incredulo? No, perchè non ci stavo capendo un cazzo Quindi certo che sono incredulo Ma dai, io cazzo Che è un'altra bomba Vedi che c'è quel mirino lì che ti disintegra? È quello che mi fotte A me è troppo bravo se ti guarda Sì, è stato un'altra bomba Sì, è stato un altro bot E anche io non sopporto Ho vinto Tanto per dimostrare che tanto per cambiare sono il migliore Ma vaffanculo, ho vinto a culo, ragazzo No Ero io in testa E che vuol dire? Vieni, ti lascio Fai come Trump E' una Va bene? Va bene Hai visto abbastanza spelanchi per stasera? Sì Che nervoso, guarda Perché? Per Dark Souls Dark Souls Più che spelanchi Buonanotte se vai Ehm, non so Un attimo con un'amica Poi vado Non ti fai una run di Isaac? No, oggi no No, oggi no Ti mando la lista dei giochi su D'accordo, poi ti dico cosa ne penso